In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it, Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle condizioni meteo che caratterizzeranno questo primo fine settimana del mese di febbraio, puoi aggiornare i nostri telespettatori sulla situazione attuale del tempo. La nostra regione è interessata da un flusso di correnti miti occidentali che determinano passaggi di rubi stratiformi associati ai solati piovaschi. Nel complesso, però, le condizioni meteo si mantengono stabili, con temperature al di sopra della media stagionale, una situazione anomala per il periodo in corso e che ha caratterizzato l'intero mese di gennaio. Per le giornate di sabato primo e domenica due febbraio, invece, come si svilupperà il tempo? Per domani, sabato primo febbraio, avremo cielo irregolarmente nuvoloso, con maggiori addensamenti lungo la dorsale appenninica, dove, sul settore occidentale, potrebbe verificarsi qualche isolato piovasco, temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli occidentali e mare poco mosso. Domenica 2, cielo generalmente poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature in lieve aumento nei valori massimi e ventilazione debole da sud-ovest, mare quasi calmo o poco mosso. Puoi fornirci un aggiornamento sulla tendenza che caratterizzerà la prossima settimana? Tra lunedì e martedì assisteremo al rinforzo dell'alta pressione con contributo subtropicale in quota. Ne risentiranno soprattutto le temperature che subiranno un ulteriore aumento con valori massimi che potrebbero sfiorare i 20 gradi centigradi. Ma attenzione, la stessa alta pressione tra martedì 4 e mercoledì 5 febbraio si espanderà rapidamente verso le isole britanniche, favorendo la discesa di aria piuttosto fredda sulla nostra penisola. Sarà interessata anche la nostra regione con temperature che nel giro di 24 ore subiranno una marcata diminuzione e assisteremo questa diminuzione soprattutto nella giornata di mercoledì. Rinforzerà il vento dai quadranti settentrionali e ci sarà la possibilità di sporadiche nevicate in montagna a quote relativamente basse. Dunque in poche ore passeremo da una primavera anticipata a condizioni pienamente invernali, ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it